Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben ritrovati. Oggi ospitiamo la dottoressa Elvira Serra, ex vice sindaco di Agropoli. Elvira, bentrovata. Ciao Gianni, bentrovata a te. Senti Elvira, allora nella primavera prossima si andrà alle elezioni, voci di corridoio insomma girano tra tanti candidati, tra questi non sono voci ma sono assolutamente tue esternazioni, no? Più volte lo ricordiamo anche quando hai ospitato Rosato, il patron diciamo di Italia Viva, il partito di cui tu fai parte e quindi mi faceva piacere insomma fare con te questa diciamo chiacchierata ecco a 360 gradi. Io la prima domanda che voglio farti è qual è attualmente la tua situazione organizzativa politicamente parlando? Confermi la tua candidatura? Stai ancora ragionando? Stai facendo degli incontri politici? Raccontaci. Ricolgo l'occasione per dirti che la scorsa settimana abbiamo votato il direttivo per quanto riguarda Agropoli per quanto riguarda Italia Viva, quindi abbiamo eletto dei coordinatori perché nel frattempo io intendo dedicarmi di più alle mie due liste civiche. Quindi stiamo organizzando insieme ai miei amici due liste civiche, una che si chiamerà Agropoli Viva e l'altra invece Città Futura. Queste due liste mi danno molta forza, molta voglia di andare avanti perché sono composte per la maggior parte da giovani, giovani professionisti e non che hanno voglia di fare, che hanno voglia di fare tante cose per la città che amano di più al mondo, che è la nostra città Agropoli e questo è lo spirito che mi pervade da sempre perché io sono cittadina agropolese da tempo immemorabile, per cui Agropoli è la città non solo dove io vivo ma che amo di più al mondo. Per cui il mio impegno per la città è un impegno che è gravato anche da una grande responsabilità perché quando mi sono candidata anche ultimamente alle regionali è la città stessa che ha voluto che io fossi la prima eletta ancora una volta è il primo partito di questa città. Quindi come posso non ricordare che la città ha stima di me e vuole che io partecipi alla vita pubblica. Avrai l'appoggio di qualche altra lista per fare una coalizione più estesa? Ci sono delle probabilità? Allora io non lo so se forse c'è paura della mia presenza che può essere, può sembrare molto forte perché vedo che quando altri intendono collocarsi al mio fianco sono spesso attaccati anche dalla stampa locale. Si vede che la mia figura diciamo fa un po' paura per quanto riguarda la forza elettorale. Probabilmente perché è molto strano che una persona che non ha mai chiesto niente alla politica, che si è sempre dedicata senza volere nulla, poi sia tanto seguita e tanto amata. Questo vuol dire che ci sono tante persone disinteressate e tante persone che chiedono un cambiamento anche nel modo di fare politica. E quindi per il momento io mi sono candidata a sindaco, i miei amici mi hanno candidata a sindaco, i miei amici delle mie due liste civiche. Poi io sono aperta a tutte le collaborazioni, a tutti i ragionamenti che possono portare la città ad andare meglio, ad avere un progresso nel futuro che in questo momento, io devo dire la verità, non vedo. Quindi io sono disponibilissima a discutere con altri soggetti politici i quali come me vogliono che la città cresca, che abbia soprattutto una sua collocazione precisa come progetto futuro. Perché ecco, la politica secondo me va scissa dall'amministrazione. L'amministrazione giornaliera sono capaci di farla tutti perché si tratta di far pulire le strade, tagliare gli alberi, l'illuminazione, insomma cose che credo nell'ordinaria amministrazione riescono a fare non i politici ma diciamo anche gli impiegati del comune. Certo, Elvira, Elvira, io poi tu ormai vai a braccio, io perdonami se ti interrompo. No, fermami, fermami. Per dare anche dei ritmi di interesse, perché più domande si fanno, insomma, più informazioni riusciamo a ricevere e più il picco dell'attenzione. Insomma, tu sei stata anche una mia maestra nella comunicazione, ricordando Teleagropoli e il nostro grande Paolo Serra, quindi io sono costretto poi a fermarti per andare avanti con le domande. E la prossima che volevo farti era questa, ovvero voci di corridoio ti vedevano qualche mese fa, insomma, in corsa come candidata del centro-sinistra agropolese, quindi non so se sono voci soltanto oppure hai ricevuto evidentemente anche dall'ex sindaco di Agropoli, ovvero Franco Alfieri, che si dice sia ancora il maggior mattatore della storia politica agropolese o quantomeno quella dell'attuale maggioranza che sta governando la città. Che ci dici qualcosa? Allora ti dico questo, se qualcuno della politica, un politico, ha potuto immaginare che io fossi una risorsa per questa città, io lo ringrazio, perché indubbiamente sentirsi definire una risorsa per la città non può che essere qualcosa di bello per una persona, soprattutto quando poi precedentemente magari ci sono state delle incomprensioni. Quindi certamente mi ha fatto molto piacere un certo avvicinamento e anche il fatto che sono stata definita come una risorsa della città. Io credo che comunque la risorsa non sia mai unilaterale, perché se ci interessa far brillare Agropoli noi dobbiamo fare in modo che tutte le risorse della città si uniscano, perché finalmente noi possiamo stabilire un progetto politico chiaro per il futuro della città. Allora, io faccio un appello anzi a tutti coloro i quali si sentono una risorsa di questa città di mettersi insieme, di metterci insieme, perché io credo che tanti, tanti hanno amato Agropoli, amano Agropoli, hanno fatto delle opere, certamente queste opere sono state per un certo momento abbandonate, non sono state curate come dovevano e quindi questo è stata una carenza della città, anche perché sai, ogni sindaco ha dato qualcosa alla città, è inutile dirlo. Io l'altro giorno sfogliavo delle vecchie fotografie di mio fratello Paolo nel quale tagliavano un nastro, ma sì un nastro importante, quello dell'inaugurazione della superstrada di Agropoli e quindi è chiaro che io vorrei vedere nel futuro tanti tagli di opere importanti, ma non solo portati a termine come ha fatto anche Alfieri, ma curate poi nel tempo, perché io purtroppo ho dovuto assistere ad esempio… Scusami, però Elvira, perdonami, tu hai risposto insomma in modo molto superficiale, io però non ho capito se l'incontro c'è stato con Alfieri oppure no. Sai, tutti sono molto interessati al mio incontro con Alfieri, stranamente poi se lo incontrano altri di questi non si dice nulla, forse fa molto scalpore che lo possa incontrare io. E qual è il problema se l'ho incontrato? Io non trovo nessun problema di averlo incontrato, di aver parlato di politica. Neanche io, eh, neanche io, però… Io non trovo nulla di strano, anche perché Alfieri è un politico preparato, non è un semplice amministratore. Quindi l'amministrazione della politica, guarda, te lo ripeto, va messa da parte. Poi un politico può fare bene o male, può magari aver non visto bene un progetto o averne avviato uno che non meritavo, oppure aver completato dei progetti, ma quantomeno ha avuto una visione politica. Questo è il problema. Allora con chi vorremmo discutere di una visione politica, quantomeno di persone che possono darti anche un consiglio, una visione, poi puoi accettarla, non accettarla. Assolutamente, sono d'accordo con te. Ma quello che voglio… E questa è la bellezza della politica, secondo me. Bravo. Parlare con tutti, confrontarsi e poi capire se c'è la stessa strada o no. Io sono aperta a tutte le persone che possono aiutare la mia città, che la amo quanto la mia famiglia. Quindi se ci danno una mano e ci diamo una mano tutti insieme per fare meglio, questo può dare un futuro alla città. La città deve crescere. In questo ultimo periodo non è cresciuta. Questa è la verità. Quindi, Elvira, tu dai ancora una possibilità al fatto che non si sia scelto Adamo Coppola insomma come rappresentante del centro-sinistra, ma insomma anche una possibilità per Elvira Serra di rappresentarlo e quindi di far coinvolgere e convergere forze, diciamo, politiche attorno a se stessa o no? Allora, se tu fai un ragionamento di coalizione, è chiaro che nelle coalizioni bisogna trovare la cosiddetta quadra. Però parliamoci chiaro. Elvira Serra lo ha dimostrato anche in passato. Non è il personaggetto che tu lo metti là e poi gli dici quello che deve fare. Io non sono questo. Io sono una persona che ragiona con la propria testa, che vuole confrontarsi, ma non soccombere. Perché io credo che nessuno di noi può essere lasciato solo con un pensiero unico. Tutti hanno bisogno non solo di buoni consiglieri, ma di consiglieri che non siano mediopri, che siano all'altezza. Perché altrimenti circondarsi di persone o avere un confronto con persone che sono sussidiari, che si inchinano alla grande personalità, poi bisogna vedere. Perché tutte le grandi personalità possono fare bene o male, ma da sole, sai, siamo portati tutti quanti magari ad avere una visione sbagliata delle cose. Allora, io non vedo perché. Tutti vogliono, parlano con Alfieri. Per quanto riguarda me, invece, è un problema. Con Alfieri certamente ci sono stati nel passato, questo lo voglio chiarire, ci sono state probabilmente delle incomprensioni, ma ti dico con molta chiarezza, sono state delle incomprensioni con dei pettegolezzi attraverso terze persone, non ci siamo mai parlati né chiariti di persona. Chiaro. Questo lo posso dire, lo devo dire questo, lo devo dire. Certamente, se una persona si è sbagliato o ha pensato di aver sbagliato nei tuoi confronti e ti dice, guarda, io credo che noi abbiamo sbagliato perché tu sei una persona veramente per bene e che puoi dare tanto. Beh, io credo che questo fa piacere a chiunque, sia se me lo dica tu Gianni, sia se me lo dica qualcun altro, anche perché io sono una persona molto umile, non penso di essere migliore degli altri. Questa è la verità. Riconoscere un proprio errore, io lo accetto con molto garbo e un segno di umiltà. Grazie. Certo, qualche mese fa sembrava ci fosse, forse c'è ancora, non lo so, te lo chiedo, un apparentamento con il PSI di Agropoli, quindi con Franco Di Biasi. C'è ancora questa sinergia? C'è una possibilità di andare insieme oppure no? Ma sicuramente la possibilità di andare insieme c'è, però voglio dire, sempre ragionando sui programmi, se siamo d'accordo sui programmi sono contenta di andare insieme. Sui programmi vuol dire anche riconoscere delle cose che vanno modificate, che sono state fatte e non sono andate bene ma vanno riviste, nessuno si deve offendere, nessuno si deve risentire, perché è indubbio che noi ragioneremo sui programmi, non sui nomi, non sulle persone. Fino ad ora sembra esserci un accordo per quanto riguarda i programmi, ma che può accadere, che è in corso d'opera e non si deve meravigliare nessuno perché pare che qualcuno si lamenti oppure possa risentirsi del fatto che tu puoi avere dei confronti con una o un'altra persona. Intanto quello che voglio io sono cose molto semplici. Le cose semplici sono che questa città deve avere un progetto politico, deve capire dove vuole andare e questo come va organizzato. Questo è tutto, non mi sembra molto complicato. Certo, guardiamo a destra, nel centro-destra, mi sembra che continua la, diciamo, incomprensione tra i vari leader che non riescono a trovare, insomma, un simbolo, una persona, chiedo scusa, una persona che li possa rappresentare. C'è l'avvocato Basile che è già sceso in campo da tempo, c'è Spinelli che ha problemi con Malandrino, leader di Forza Italia, il quale non vuole lo straniero ad Agropoli e sembra però appoggiato dal partito Forza Italia. Poi c'è Cianciola che non riesce a sedersi, o meglio, si siede ai tavoli ma non riesce a trovare, diciamo, un consenso per la sua candidatura perché lui vuole fare il sindaco. E poi c'è la maggioranza che, insomma, sembra infibrillazione, tra a breve forse cambierà qualcosa. Insomma, sì, c'è molto chiacchiericcio. Che cosa pensi del centro-destra prima poi di farti ancora un'altra domanda perché con te, insomma, è interessante fare questo discorso politico. Allora, il centro-destra ragiona, io non posso sapere quello che avviene con Forza Italia perché credo che sia tutto interno al loro partito. Certamente noi, nell'ultima riunione che abbiamo fatto del mio gruppo, abbiamo stabilito delle norme. Quali sono queste norme? Il 50% deve essere almeno di donne che non siano poterose ma siano delle reali presenze politiche. Poi, chi si cambia... Volevano solo sistemarsi in qualche modo, poi alla fine non c'era lo spessore politico. Anche perché, Gianni, la politica è fatta di continuità e partecipazione. In politica non ti puoi inventare dal giorno all'altro, eh? Si combatte tutti i giorni per la politica. Per questo, certe volte, io... Mi viene un po' da ridere quando ognuno si sveglia e la mattina vuole fare il sindaco. Diciamo, ma tu dove hai dormito gli ultimi anni? Quali sono gli atti politici che hai fatto? Dov'è che ti sei occupato della città? E poi tutti quanti sono capaci di candidarsi a qualsiasi consigliere, capito? 3-411 candidati al sindaco. Allora, io non lo so se poi c'è la capacità politica e amministrativa, perché poi quella è tutta da dimostrare. Sì, assolutamente. Ma i leader del centro-destra ti hanno consultata? Ma ti devo dire la verità. Mi consultarono la prima volta, ma io capì che avevano già un nome, quindi mi tirai indietro, voglio dire, perché poi io non voglio essere inopportuna, ecco. Poi, no, no, io non sono stata più invitata in questi gruppi. No, no, non posso dire che sono stata invitata. Certo. Diciamo, degli amici mi hanno chiamata per dire, ma vogliamo discutere, vogliamo ragionare. Però io penso che se non si riesce a trovare la quadra, si vede che in qualche modo bisogna pure cambiare l'obiettivo, no? Un po' tutti i sindaci al termine del mandato elettorale, insomma, si affrettano a fare cose che magari hanno un po' dimenticato nel tempo e si affrettano ad ingaggiare evidentemente amici e conoscenze per poter fare, ecco, maggior bella figura nella competizione. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire, essendo più forte il candidato uscente, non per quello che ha fatto o non ha fatto, ma probabilmente perché ancora riesce a governare un certo potere e avere poi di contro degli avversari che sono assolutamente divisi, questo comporterà poi un'eventuale capacità di vittoria da parte sua. Non so se sono riuscito a spiegare. Io ti ho capito molto bene Gianni, ti ho capito molto bene e ti faccio una battuta, ma è veramente una battuta. Un sindaco di Napoli tanti anni fa, mi pare fosse Lauro, dava una scarpa prima dell'elezione e una scarpa dopo. Quindi era in un periodo di miseria, le persone non avevano le scalpe da calzare e gli dava una prima e una dopo. Sai qual è il problema? Questa è una doppia faccia perché quando tu hai fatto sei liste precedentemente e di questi candidati non ti sei ricordato di nessuno, ma solo un folle si ricandiderebbe. Mi sono spiegato? No, scusami, non ho capito bene. Se riusciamo a dare maggiori indicazioni. Se io mi sono candidata in una lista, no? Dopodiché il voto popolare tu non ne hai tenuto proprio conto perché è come me. Sei lista, erano circa 2.000 persone. Di queste 2.000 persone tu quante credi siano rimaste molto contente? Chiaro adesso. Perché l'esperienza dimostra a quelle persone che non è il caso di candidarsi con chi il giorno dopo non si ricorda più di te. Chiarissimo. Questa è una lezione importante perché è vero che tu hai cercato di tenere insieme, i consiglieri calzavano la mano quindi il sindaco non cade. Ma alla fine te ne sei ingraziati 16. Ma quanti te ne sei inimicati? Ma non sei non proprio inimicati. Quando non si vorranno più candidare? Perché hanno visto come sono stati trattati. Cioè uno fa una campagna elettorale, ci spende soldi. Poi dal giorno dopo uno non si ricorda più nessuno tranne di quei 16 eletti. Ma insomma mi sembra veramente riduttivo o no? Certo. Quindi il giorno dopo le elezioni uno deve unire la città, riunirla ai cinque anni per rimetterla insieme. Se ci sono sei degli errori tu puoi dire guardi è già sbagliato, cambi il modo di fare. Però sai quante persone tu gli puoi dare la mezza scarpa? Mica a tutti. Perché poi a quello che non lo dai te lo sei inimicato o no? E non è detto che tutti vogliono queste scarpe strette da calzare che poi fanno male. Quindi tu dici non do così tanta credibilità comunque al sindaco uscente rispetto alla frammentazione nostra? Guarda frammentazione per quanto mi riguarda non ce n'è perché io non ho cercato candidature da altri quindi non mi sento frammentata assolutamente. Umilmente credo che già che l'Europa è tutta il femminile questa volta una donna come me potrebbe essere un buon sindaco. Bene e noi te lo auguriamo fermo restando che ci sentiremo sicuramente fino alle insomma elezioni c'è tempo però cominciamo già da adesso quindi grazie per essere stata con noi Elvira e ci aggiorneremo a presto. Grazie Gianni grazie di cuore un saluto a tutti e buon Natale buon Natale in tutte le case buone feste speriamo che questo covid ci faccia stare tutti quanti bene. Un abbraccio forte grazie ancora. Grazie a Elvira Serra.